Il cantiere per la riqualificazione di Piazza Carducci, secondo le previsioni dell'amministrazione, serviranno pochi mesi per realizzare la nuova zona di accesso al centro storico di Porta Pisa, che oggi si presenta a disomogenea e limitata dal punto di vista della fruibilità degli spazi. La nuova piazza, il cui progetto preliminare era già stato presentato e condiviso con le attività commerciali, è pensata per far coincidere aspetti di multifunzionalità e valorizzazione del patrimonio storico con quelle delle attività commerciali e turistiche. Sarà una piazza senza barriere architettoniche, ordinata dove dominare sarà la fontana ai piedi della fortezza Reghina, che tornerà a questo punto ad avere un ruolo centrale, sarà un punto di incontro naturale. La giunta municipale, ecco vediamo la fontana, nell'ultima seduta vi dicevo la giunta ha ratificato l'ultimo fondamentale passaggio, l'approvazione del progetto definitivo esecutivo. La nuova piazza costerà circa mezzo milione di euro. Il nostro obiettivo, ha spiegato il sindaco Giovannetti, è consegnare la nuova piazza entro il 30 di aprile. Per quel periodo speriamo di essere tornati in una situazione di controllo e normalità sotto il profilo pandemico. Torniamo a Villa Bertelli dove c'è stato il primo incontro dedicato...